Il titolare Buongiorno San Pietro Buongiorno Tutto a posto? Non tanto, faccio bene Faccio bene Vabbè a quest'ora si vede San Pietro E lunedì è sempre una giornata strana Abbiamo un sacco di cose da fare, io non lo so Allora, a livello di nascite come siamo messi oggi? Siamo bene, mi sembra che nascono cinque oggi, è vero? Sei Sei, vabbè giusto, il tempo di venire Esattamente Chi deve morire oggi? Eh, ora chi deve morire? Aspetta, sta tutto scritto qua Lo vedi? Allora, sono sei che devono morire Questi tre stamattina e questi altri tre oggi pomeriggio, vedi? Allora, chiamiam quelli stamattina Chiamiam quelli stamattina Allora, il primo è Brandino 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 Cazzo no Allora, dammi un 3, 2, 8 Sì Ok, wind Eh sì E' buono, non già abbiamo la scatola risposta Se veste Allora 1 2 0 0 0 E' un segreto. E' un segreto. E' saci. C'è neve quando chiamano con l'anonimo. Non vorrei neanche rispondere. Pronto? Pio Brandino? Chi parla? Qui l'anticamera del paradiso. Io sono San Pietro. San Pietro. Buona questa. Sei simpaticissimo. Chi sei? Chi sei? Tu sei? Ti ho riconosciuto. Ti sto chiamando per avvisarti che fra poco devi morire. Vabbè sì, vado a Diciananduna. Devi morire. Ma lo stai? Devi morire. Senti, signor Brandino. Ti stiamo aspettando. Sì, vabbè. Aspiti sempre. Vabbè sì. Ora preparo un bagaglio e vengo. Vabbè. Vabbè. Qui si dimostra. Chi ha detto? Vabbè ti c'è Davide. Che cos'è? San Pietro. Vado a vedere chi va a vedere San Pietro? Ah. Dammi il prossimo. Sì allora. Il prossimo è questo qua. Vedi? Cosimino. Cosimino, Brandino, che capo. Dammi il numero. Non tanto si capisce il nome San Pietro. venga, devo dire ieri ho questi 3, 4, 7 che è Vodafone si ora dobbiamo pagare lo scatto la risposta beh, beh allora vabbè, questi sono i miei numeri suoi chi è? signor Cosimino si qui l'anticamera del paradiso, sono San Pietro si sono San Pietro beh, ciò che vuoi? senti, ho chiamato per avvisarti che fra poco devi morire si, io devi morire è giù, è giù, è giù, è giù, è giù è giù, è giù, è giù, è giù è giù, è giù, è giù è giù, è giù guarda l'oro è giù, è giù 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 è giù è giù è giù poche chiacchiere dì ciao, va tra un po' e qualche minuto devi morire è arrivata la timore è giù è giù non ti preoccupare pensavo che Gesù Cristo è giù è giù ti aspettiamo sa bene c'è me la fracca ma mai che ha detto? chiamano fracca ormai è oriundo ah è questo dammi l'auto a questo tocca uccino uccino così mi è la miseria oggi si chiama così che vuoi dare due minuti quello è vedi tre tre quattro tre tre quattro venga venga uno due due tre pronto? pronto signor Uccino pronto 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 chiamano dall'anticamera del paradiso sono San Pietro pronto madonna il casino che stanno ballando è bravo il dj comunque non si capiva niente chi è? pronto? l'anticamera del paradiso sono San Pietro ti ho chiamato per dirti che tra mo' e qualche minuto devi morire come devo morire? sapete io mi sto sposando oggi sapete non sapete ti beco fai un'eccezione fai un'eccezione almeno per me fai un'eccezione non è che ti chiedi chi sa che cosa cioè se mi sono sposato oggi almeno mi fai godere diciamo di questa vita matrimoniale fai un'eccezione dai San Pietro dai che si può si può fare l'eccezione dai e va bene facciamo un'eccezione grazie San Pietro grazie sto dubitore veramente grazie San Pietro ci sentiamo in un altro momento eh? sto arrivando no no dicevo a loro che mi stanno chiamando va bene grazie San Pietro grazie fammi godere di questa vita matrimoniale grazie grazie San Pietro ciao buono un'eccezione vai scusa San Pietro come sarebbe facciamo un'eccezione? allora il ragazzo si sta sposando ha detto che vuole godersi la vita matrimoniale allora fai una cosa scrivi scrivo preferisce una lunga agonia per spiegare non è che l'opportunità non gliel'abbiamo data tu ne sape è giovane è giovane grazie 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 grazie